E' Peggy B. E' la sfida di oggi? Certo, super pronte! Chi indovinerà quali sono i posti più in di Glam City riceverà in premio questo diamante. E ora seguite i miei indizi. Questa volta vinceremo noi la Gemma. Per prima cosa andate a vedere i pezzi che stabiliscono l'ultima tendenza sulle ruote. La troverete Aurora, che vi accompagnerà per tutta la sfida. Così conoscerete i posti più interessanti della città. Buona fortuna! Che ruote? E di quali pezzi? Che magari siano in un parcheggio? Però mi sembra strano. Oh, ho un'idea! Ciao! Siamo cagnoline molto cool! Amiamo le acconciature! Insieme vivremo mille avventure! Bitbass! Bitbass! Siamo le Bitbass! Se stiamo insieme noi non ci fermiamo! L'altra paura inizia l'avventura! Alla Bitbass! Sfida raccolta! Cos'è questa roba? Volevo rinnovare le decorazioni del salone, ma forse ho un po' esagerato. A me ricorda tanto Natale! Veramente io avrei un'idea! Decoriamolo secondo la tendenza più alla moda del momento, venite! Guardate! Tutta la città è decorata con le gemme, tranne il nostro negozio! Mipotina mia, sei un geniaccio! Sì, non mi stai stritolando! Caspita! Che bei salti! Solo a guardarti mi viene voglia di ballare! Sei Aurora! Ciao! Noi siamo Nila, Stella e Lady Gigi! Peggy e B vuole che tu venga con noi! Seguendo i suoi indizi misteriosi, vinceremo il bel diamante impari oggi! Noi siamo Selena! Misteri, Kitty ed Electra! Bene, eccovi tutte riunite! Lei come fa a saperlo? Quindi la sfida continua! Ora dovete trovare il posto più allegro e vivace della città, così Aurora si divertirà a Glam City! Aurora, che hobby ti piacciono? Beh, mi piacciono la ginnostica ritmica, le gemme acconciature e la musica! Perfetto! Allora ti parto nel miglior negozio di dischi della città! E' un posto allegro dove c'è sempre musica! Ma dov'è? Io non l'ho mai visto! Ci penso io! Gwen, ci serve il tuo aiuto! Dobbiamo trovare un negozio di dischi e... Seconda prova! Eccoci qua! Siamo arrivati anche noi! Finalmente avete trovato il miglior negozio di dischi di Glam City! Ma lei come fa a saperlo? Vi meritate una pausa? La prossima prova consiste nel trovare il posto più rilassante della città! Facile! Non c'è niente di meglio di un massaggio! Non è vero! La cosa più rilassante è il solletico! Oppure ballare? No! Una lezione di yoga! Vieni con me! Ti porto alla spa più rilassante di Glam City! No! No! Così invece sembra la festa di Halloween! Ho un blocco creativo! Niente paura, zio! Adesso faccio una ricerca sul campo! Fantastico! Mi sento leggerissima! È davvero stupendo! Congratulazioni, Vip-Bets! E adesso che siete tutte sul posto... Ma lei come diamine fa a saperlo? Vi do l'ultimo indizio! Ora dovete trovare il luogo più salato di Glam City! Lì potrete vedere la gemma più grossa della città e anche uno splendido tramonto! Aurora non può perderselo! Se è salato forse ha a che fare con il cibo? O quei camion che lo vedono? Ma certo! Dentro potrebbe esserci una gemma! Vieni con noi! Ehi! Siamo stati a noi ad avere l'idea! Aspettatemi! Ecco qua! Ma se invece... Queste fotografie sono fantastiche! Mi hanno dato l'ispirazione! Forza al lavoro! Se la gemma è così grossa, perché non riusciamo a vederla? Tranquilla! Io ho un fiuto imbattibile per le gemme! Ops! Io qui di gemme non ne vedo! Abbiamo fatto fiasco! È chiaro che è in un altro posto! Beh, se ti era così chiaro perché sei venuta! Calmatevi! Ragioniamo tutte insieme! Qual è la cosa più salata che vi viene in mente? Ah, beh! Non che abbia molto senso, ma la cosa più salata che mi viene in mente è il mare! Però non ci sono gemme nel mare, giusto? Un doppio indovinello! Forse non è una vera gemma quella che dovete trovare! Questa cosa ci sta sfuggendo di zampa! Ah, ci sono la gemma più grande e senz'altro il sole! Benissimo! Allora abbiamo il mare e il sole, perciò il posto migliore per ammirare il tramonto è... La spiaggia! Aspettatemi! Bravissime! Avete risolto tutti gli indizi! E ci siete riuscite ragionando insieme! Siete un'ottima squadra! Ed è tutto merito tuo, Aurora! Sei stata l'ospite perfetta! L'assenza di te sarebbe stata una sfida impossibile! Questa gemma è tua! Wow! Ma Peggy B, tu come facevi a sapere sempre dove eravamo? Segreto di un flupette! Fabio, che bello il salone con queste gemme! Merito del nostro lavoro di squadra! Ciao! Oh, caspita, che meraviglia! Complimenti! Il salone è addobbato con tutte queste gemme, davvero stupendo! Ciao, sono Aurora! Che piacere conoscervi! Il piacere è tutto nostro, Aurora! Un diamante è la mia passione! Per favore, mi fai una gemma acconciatura col diamante? Ma certo! Diamond Style! Che meraviglia! Stai benissimo così! Grazie, amiche! Ma la cosa più bella è stata conoscervi! Abbiamo una nuova amica! Beh, veramente lei è più amica nostra che vostra! Ma che cosa stai dicendo? Noi siamo amicissime! I love it best!